È il problema più grave che c'è in questo momento non solo in Italia ma in tutta Europa, quello demografico. E ci sono due tipi di soluzioni. Uno è portato avanti dalla sinistra anche europea, che dice più immigrazione. L'altro è portato avanti invece dai partiti che io definisco identitari, che significa favorire le nascite. È una scelta di mondo, è una scelta di campo. Bisogna decidere da che parte stare. Di sicuro, se noi cerchiamo di favorire le nascite, è l'unico sistema anche per aumentare l'economia. Perché attenzione, anche il prodotto interno lordo, se non cresce, è dovuto al caro demografico. Sembra di no. Ma in larga parte, se noi andiamo a vedere, la mancanza di una domanda interna e di un consumo interno è dovuto al fatto anche che la popolazione invecchia. Invecchiando la popolazione tendenzialmente tende a essere più risparmiatore, più risparmiatrici, le persone di una certa età. E l'unico consumo maggiore che abbiamo, come domanda interna, è quello di farmaci. Sarebbe da analizzare molto bene. È stato fatto anche da uno studio da un consulente della presidenza del Consiglio, che ha collaborato con Ciampi e Prodi, eccetera. Anche lui stesso, qualche settimana fa, sul Corriere della Sena, diceva appunto il fatto che la decrescita demografica comunque è un fattore che influisce negativamente anche sul prodotto interno lordo. Al di là di questo faccio un'altra precisazione. Che in ogni epoca è sempre stato studiato dagli storici il fatto che una società che progredisce, che è effettivamente progressista, che cresce, è una società nella quale c'è una crescita demografica. Da sempre le civiltà con un calo demografico sono decadenti e sono andate verso la rovina e la sconfitta. E poi è evidente che è un suicidio in atto in questo momento, non solo sul calo demografico, ma se noi pensiamo che dal 2011 ad oggi sono triplicate le persone, gli italiani che vanno all'estero, è evidente che questo è un paese che non ha nessuna attrattiva addirittura per gli italiani. E questo c'è da chiedersi, ma allora il problema è fare lo you solely? Il problema è avere maggiore immigrazione? Io penso che il problema è che in questo momento gli italiani non hanno fiducia nell'Italia.